Ora che abbiamo definitivamente aggiunto la parola schiferito al vocabolario italiano, oppla. Ehi tu, cosa ci fai in casa mia e perché stavi scrivendo sul mio dizionario? Oh no, è ZANNICHELLI! Possiamo passare a questioni più importanti. Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video in cui... Come tutti, ti stai rivolgendo solo ai maschi che guardano il tuo video? No, però in italiano di solito si usa il maschile sovraesteso, tutti, per rappresentare un gruppo eterogeneo di persone. Ah, comunque mi sembra strano dire tutti se parli anche ai non maschi. Anche a me, è proprio questo ciò di cui voglio parlare oggi, guarda! Ciao a tutti! Ciao! Ciao a tutti! Ciao! Tutti i nostri amici maschi sono morti in un bruttissimo incidente. Ah. Ciao a tutti! L'italiano funziona così. È vero, però le lingue sono cose vive e cambiano con la sensibilità delle persone. Binaria, cosa c'entrano i treni? Le persone non binarie sono persone che non si identificano nel genere maschile o femminile. Come facciamo a rivolgerci a loro? Mario Monti è andato al mare. Marina è andata in montagna. Lake è andato... ...al lago? Nella lingua scritta ci sono state varie proposte per parlare una lingua più inclusiva, anzi, la più ampia possibile. Tutti i modi per riferirsi a una o più persone, non evidenziandone però il genere. Lake è andata asterisco al lago. Lake è andata chiocciola al lago. Lake è andatix al lago. Lake è andatu al lago. Wow, non sapevo venisse dalla Sardegna. Tutte queste soluzioni fanno schifo! Non sono ottimali. La u può risultare cacofonica. E asterischi, x e chiocciole non hanno un suono. E un suono ce l'ho? Ah sì? Quale? Alcune persone negli ultimi anni hanno avanzato la proposta di utilizzare questo simbolo. Si scrive come una lettera e storta ruotata di 180 gradi e non si pronuncia e are... ...bensì si pronuncia a, che è il suono neutro che la bocca fa se non provi a fare nessuna vocale. Oppure è il a di the in inglese. Quindi lake è andat al lago. Wow, è semplicissimo. Facciamo degli esempi! Onyx è il mio Pokémon schiferito. Sono in completo disaccordo con questa persona, però non so se è un maschio, una femmina o una persona no binaria. Perché sì o non sa disegnare, come faccio? Secondo me sei sceme! Ciao a tutti, benvenuto nel mio corso di come fare i soldi con i Bitcoin. Step 1, avere una macchina del tempo. Step 2, comprare un miliardo di Bitcoins. James Bond, Jane Bonda, Jay Bonds, siete in trappola. Ora il mio robot fatto di sassi di lava di dinosauro vi ucciderà tutti. Noi siamo fortissime e ti sconfiggiamo, malvagio dottor Malignor Sass Dinosaur. Grazie al potere dell'amicizia e alla spada di salame magico che ha portato Jay. Non doveva portarlo Jane? Io credevo dovesse portarlo James. Fine degli esempi! Se sei un maschio cisgender, cioè ti identifichi con il genere assegnato alla nascita, ti chiederai Ma perché c'è la necessità di una roba del genere? Di solito noi maschi cis siamo abituati a essere sovra rappresentati in film, cartoni, libri, fumetti, insomma nelle storie. La lingua italiana di conseguenza non si è mai posta fino agli ultimi decenni il problema di rappresentare linguisticamente alternative al maschio o al maschile. Pensate alla parola sindaca, che non esisteva solamente perché il 99,999% dei sindaci sono sempre stati maschi. E nel giro di pochissimi anni invece è diventata una parola normale, anche se la quantità di sindache non si avvicina ancora al 50%. Ascoltando e leggendo le parole di persone non di genere maschile, quando si usa l'asterisco o lo schwa, che è il nome del simbolino simpatico, si sta rendendo esplicito il fatto che non ci rivolgiamo solo ai maschi. Certo, il maschile sovraesteso continua a esistere, ma secondo me vale la pena rivolgerci direttamente con un piccolo sforzo tangibile a ogni singola persona. Non è affatto un modo di annullare le differenze tra le persone, è includere esplicitamente ogni singola persona nel discorso. È una terza declinazione, il maschile, il femminile e l'inclusivo, l'ampio. Ciao a tut! Oh, mi sento escluso in quanto maschio! Eh, ma tut vuol dire proprio tutti, tutte e tut. Eh? Vuol dire che sto parlando ai maschi, alle femmine, a tutte le persone non binarie, proprio tut, compreso te! Ma io mi sento escluso perché stai includendo gli altri! Allora sei scemo! Lo schwa è un abbraccione collettivo, è un modo per dire, sì, sto parlando proprio a te e a tut, non solo ai maschietti. Ok, ha sicuramente dei difetti, per esempio è un po' complicato scriverlo. Su iPhone puoi fare sblirp, su Android puoi fare zoing e su computer copia e incolla. E, siccome la lingua di solito si evolve facendo meno fatica e non di più, la soluzione finale potrebbe perfino essere fare il suono dello schwa ma non scrivere niente. Tut che si scrive tut. Non è la soluzione perfetta, però non cancella altri modi di esprimersi ed è solo una gentilezza in più che potete avere nei confronti degli altri esseri umani. Io personalmente ho iniziato a metterlo nei miei fumetti, quando penso sia appropriato. Lo usiamo pure in Power Pizza e vorrei usarlo anche nei video. Se vi identificate come persona non binaria lasciate un commento sotto questo video e ditemi che cosa ne pensate. Perché non essere gentili? La gentilezza è come la pizza. È buona e bella. Ciao a tutti! Ah, se volete ho fatto una mega chiacchierata con la sociolinguista Vera Gheno in una puntata di Basement Café e abbiamo approfondito questo discorso insieme a molti altri. Lo trovate qui a schermo, nelle schede e in descrizione. Ciao! Grazie a tutti!